Molteplici sono i quesiti che pervengono al servizio esperto risponde in tema di condominio. In particolare le questioni legate alle spese condominiali nei passaggi di proprietà sono spesso portatrici di conseguenze che con l'aiuto di esperti vengono risolte se affrontate con la professionalità e competenza che sono richieste. Mella fattispecie si riferisce dell'acquisto di un appartamento comunicato all'amministratore come prevede la normativa a seguito del quale l'acquirente riceve il rendiconto costruttivo condominiale da cui risultano debiti pregressi per spese ordinari relative alla nuova proprietà. L'amministratore è precisa inoltre che sussistono anche debiti per spese di natura straordinaria. Domandiamo all'avvocato Matteo Rezzonico come ci si deve comportare, chi deve pagare, l'acquirente o il precedente proprietario. Nei confronti del condominio sussiste un vincolo di solidarietà nel senso che sia il proprietario sia l'acquirente rispondono delle spese ordinarie e straordinarie sorte nell'esercizio in corso e nell'esercizio dell'anno precedente. Se quindi l'esercizio 2022-2023 si è chiuso al 31 marzo avendo comprato ai primi di aprile risponderò al solido con il venditore per l'esercizio 2022-2023 e per l'esercizio 2023-2024. Nei rapporti tra venditore e acquirente tuttavia è bene puntualizzare che ove non si fosse raggiunto un diverso accordo scritto nel contratto di vendita i debiti per spese straordinarie o per eventuali innovazioni come per esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici o la costruzione di una fiscina deliberati prima della vendita ricadono sul venditore. Per la manutenzione ordinaria invece vale il principio per il quale chi ha usufruito della spesa è tenuto a sostenere i relativi oneri. In quest'ottica per esempio le spese per il consumo di riscaldamento tra l'esercizio 2022-2023 e l'uso a marzo 2023 saranno a carico del venditore. Le spese per la riapertura dell'impianto di riscaldamento nell'autunno 2023 saranno a carico dell'acquirente. Grazie a tutti!